ciao ragazzi da oggi inizia una nuova serie spacchettamenti di card figurine chi più ne ha più ne metta on the road nelle vie d'italia oggi tiriamo fuori l'adrenaline i calciatori dalla panini ora nicodemo lo spacchette la vediamo cosa troviamo andiamo con l'apertura con l'apertura fatti o loro con sempre il coupon non ci interessa di una carta damsgard della samp donna rivele siamo a genoa siamo a genoa ragazzi senza volare del lecce vabbè andremo anche a lecce carlos augusto del monza samuel di carmine della cremonese andrea consigli del sassuolo e per finire adrian ismaili dell'impoli non è stato un pacchetto stellare però ci vediamo ragazzi prossimi episodi fatti sapere se vi piace questa serie e fatti sapere che carte potremmo aprire proveremo di meglio